buongiorno buongiorno dal dottor claudio saraceno da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la via maiuscola oggi rispondo ad un signore di montpellier che mi chiede dottore o il diabete ed è possibile ho letto un po di libri sull'ipnosi è possibile che la mente il subcosciente controlli pancreas il pancreas produca insulina a livello naturale sì o no bene la risposta ragazzi è sì 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 lo dico a lei lo dico a tutti quelli che mi stanno ascoltando il la mente la sala comandi come star trek il subcosciente l'88 per cento della tua mente controlla la pelle gli organi le ghiandole le ossa i nervi muscoli per cui funziona ragazzi funziona fai un piccolo esperimento la mano guarda questa mano guarda per qualche secondo e pensa al caldo al calore diventa calda ok ma quante volte tu al ricordo al suono di una canzoncina un'emozione scombussoli tra virgolette trasmetti queste sensazioni a tutto il tuo corpo come mai quando una forte un forte spavento no e ti senti subito andare in tensione oppure senti la tachicardia oppure senti affanno oppure ti senti diventare la faccia rossa eccetera eccetera perché perché tu stai agendo da un'emozione da un'immagine da un pensiero su tutto il tuo corpo allora se è vero come è vero che l'ipnosi vera professionale con la v maiuscola riflette un attimo viene utilizzato in tutti gli ospedali del mondo per l'anestesia dai medici per eliminare il dolore alle persone intolleranti ai farmaci dell'anestesia ti invito di documentarti non credere al sottoscritto documentati in tutte le parti del mondo allora se è possibile spegnere premere l'interruttore off e non sentire più dolori per farsi operare per operazioni di alta chirurgia come ha fatto anche lo stesso dottor facco no è uscito anche a voyager se vuoi vederlo sta su internet bene non può secondo te ordinare al pancreas di tornare a produrre insulina ha risposto il silo per logica rifletti ma a parte le ricerche scientifiche puoi andare sull'anset sul life e notare che che ci sono studi scientifici a parte l'associazione ipronologia sociale di los angeles baby reels e poi se vuoi proprio provare il metodo di cese di ipronologia di cese vera professionale unico al mondo puoi scaricarti l'audio mp3 di cese no diabete e noterai delle cose incredibili perché le suggestioni di cese convincono educono il tuo subconscio ad agire sulla causa che causa l'interruzione del pancreas il funzionamento male del pancreas per farlo di nuovo tornare a vivere a fare il suo lavoro se tu guardi la medicina cinese è collegata alle emozioni cosa ad esempio il fegato e rabbia milza e preoccupazioni eccetera eccetera quindi è così ragazzi è così fammi tutte se vuoi puoi scaricarti audio mp3 dcs per eliminare le paure il passato oppure lo stesso audio no diabete eccetera e ripeto non facciamo terapia né diagnosi né cure devi sempre andare dal tuo medico curante lo specialista della salute pubblica da cui dipendi perché loro sono gli unici responsabili della tua salute in qualsiasi parte del mondo in cui risiedi puoi anche recarti presso un professionista dell'ipnosi vera professionale con la v maiuscola della tua zona della tua città in qualsiasi parte del mondo in cui risiedi perché il sottoscritto al momento ha sospeso le sessioni di ipnosi online l'ipnosi di cese online unica al mondo per problemi di tempo di impegni e chiedere se ha già affrontato casi come il tuo iniziale perché anche nel mondo dell'ipnosi vera professionale con la v maiuscola ripeto che non nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacolo esistono i generalisti e gli specialisti devi cercare lo specialista del tuo tasso perché per non spendere soldi inutilmente perché non esistono effetti collaterali all'età alle sciocchezze che il potere forte ti butta nella cucuzza per limitare la tua libertà vera va bene senza offendere nessuno ma questa la vera e sola la sacrosanta verità in america in tutto il mondo fammi tutte le domande il caso risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi mi impegni visite il mio sito internet www.ipronoregiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscrivete a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cese del dottor claudio saracino e faccio il condivido con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cese del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio alla prossima ciao